Il Piemonte lancia lo screening dalle case di riposo che saranno testate con i tamponi rapidi ogni 15 giorni. Lo ha annunciato questo pomeriggio in videoconferenza dalla regione il governatore Alberto Cirio. Doteremo direttamente tutte le strutture di tamponi rapidi nel numero necessario, ha detto, che è di 700.000 pezzi ogni volta poiché vogliamo testare tutto il personale e gli ospiti che sommati sono 70.000 persone. Le residenze per anziani, ha chiarito, saranno testate ogni 15 giorni. Le comunità protette, cioè quelle dedicate a disabili, minori, psichiatrici e dipendenze, saranno testate invece una volta al mese perché gli studi dicono che il rischio per gli anziani è doppio rispetto alle altre comunità. Circa 43.000 test, ha sottolineato, sono già stati consegnati, il resto è in arrivo. Il tampone rapido è del tipo che si autoprocessa e a occuparsene sarà il personale di ciascuna struttura. A coloro che risulteranno positivi sarà fatto il tampone tradizionale. Dall'inizio di questa settimana è stato reso possibile inserire nella piattaforma Covid della regione i risultati dei tamponi fatti nelle RSA. In ottobre quindi, prima del via al nuovo screening con i tamponi rapidi, nelle casi di riposo eseguiti finora 82.000 tamponi. Nell'ultima settimana ne sono stati fatti 25.000, 13.000 sul personale e 12.000 sugli ospiti. Il maggior numero riguardante il personale si spiega perché questo è considerato l'elemento critico che porta il virus dall'esterno. Il risultato dei tamponi fatti finora è stato positivo per il 3% del personale e per il 5,5% degli ospiti, contro un dato medio del 20% fra marzo e aprile. Sono quattro giorni che in Piemonte la curva di contagio è piatta. La possibilità di un nuovo lockdown è proporzionale alla nostra capacità di rispettare le regole, ha affermato oggi Cirio sulle due.